È Terra Nostra, il posto più vicino al paradiso. Io non scrivo per vendere, ecco, i miei libri non sono in vendita. Io scrivo come atto terapeutico perché penso che il leggere e lo scrivere facciano bene al cervello, così come il camminare fa bene al fisico. Per cui camminando e leggendo e scrivendo sono arrivato a 86 anni. Bene, finita questa premessa andiamo al libretto. Tutto nasce da un dépliant del 2007 che è stato stampato in occasione della festa di San Giovanni che si tiene a Castione ogni anno. In questo dépliant c'erano frammenti di storia castionese, ma in particolare quello che era successo a Castione nei primi anni del 1800. Cioè Castione sosteneva, allora è stato sempre un comune e aveva addirittura sotto 12 frazioni, cetici, voi, modolo, limana e via di seguito. Poi è successo che nel 1806 i castionesi praticamente si sono accorpati al comune di Belluno, cui nel 1826 fece una petizione per ritornare di nuovo autonomi. Questa petizione in quel tempo c'era il regno Lombardo-Veneto, la petizione la dovevano fare le autorità austriache, per cui andarono a Milano dal vicere del regno Lombardo-Veneto dicendo i loro motivi e dicendo che volevano ritornare autonomi. Il vicere lì rilasciò un documento con cui andare dal delegato imperiale di Belluno, che allora si chiamava Macabruni, per farsi rilasciare il documento proprio per costituire di nuovo comune e avere l'autonomia amministrativa. Vennero, ritornarono a Castione, contenti e beati, fecero una festa per questa nuova autonomia nella parrocchia e mentre si beveva e si mangiava il documento sparì. E questo è il giallo. Su questo documento ricamo una storia romanzata. L'unico giallo che risolve in questo libro dice che quel documento, quella sera, fu rapito, fu preso dall'allora parrocco di Castione, che si chiamava Don Sperti, il quale in un primo tempo giurò che non era stato lui sull'altare, poi ammisse che era stato lui e scappò via e si rifugiò a Belluno nel Vescovano. Le vere autorità che avevano potere, chiaro, erano i due governatori, uno a Milano e uno a Venezia. E a Venezia, in quel tempo, c'era, nel primo 1800, c'era il Conte Spauro. Per cui mi sembra strano che i castionesi siano andati fino a Milano, dal vicere che non contava niente, come ho detto io, come il due di coppe, e non siano andati invece dal governatore del Veneto a Venezia, che fra l'altro era molto più vicino. A quei tempi, fra l'altro, non c'erano manco le frecce rosse di Trenitalia, per cui dovevano andare a cavallo. Per cui è stranissima questa roba che vanno là, per cui non mi ha mai convinto questa roba qua. Poi questa storia anche del comune. Ma dov'era questo comune? Perché a Castione, chiaro, ci sono tanti edifici che ricordano nei tempi passati istituzioni e altre robe. C'è la casa del dottore, c'è la casa della congregazione dei battuti, che è l'attuale battistero. C'è la casa delle poste, quella color rosso. Però la casa del comune nessuno sa dov'è. Se c'era stato un comune, perché non c'è una targa, un documento, qualche anziano che ricorda dove era il vecchio comune? Per cui dico, tenetevi Castione con me e godetevela in pace, perché fra l'altro a Castione l'aria è tanto più pulita che non invia Vittorio Verde per Belluno.